balconi tv messina oggi con gli entourage benvenuti ragazzi che ci suonano tappeto volante buon divertimento no le porte ai battiti l'orizzonte che naviga l'armonia degli attimi si diffonde non so l'armonia degli alberi è un caldo sole che appare la magia degli angeli è un bacio in fronte apre la luce e ti dona una calda voce che va sento il suono ai passi di un'atmosfera che affascina è poesia magnetica ed è il mio forte respiro aria che profuma di beatitudine e beltà di un'atmosfera grazie grazie questa canzone allora fa parte di vivendo colore ok che è il nostro secondo disco primo singolo estratto primo singolo estratto uscito a ottobre questo e poi il disco a novembre come sta andando il disco siete contenti come è stato accolto diciamo che noi personalmente del lavoro che abbiamo fatto si siamo contenti abbiamo fatto un passo importante secondo me nel nostro modo di fare musica bene e poi più o meno da quello che abbiamo detto in giro nel più o meno ecco è stato gradito come disco nel live ci divertiamo è un disco totalmente autoprodotto lo siete fatto totalmente in casa scritto e registrato nel vostro studio no? si si registrato proprio lì che ricordiamo infatti appunto voi venite più o meno da quella punta lì si 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 bene ok e dove si trova come si fa a seguirvi online? online c'è il nostro sito web che è www.enterynowrage.com e poi la nostra pagina facebook entura centerynowrage che insomma bene appena comparso qui in sovraimpressione ragazzi io vi ringrazio per essere stati con noi oggi sul nostro balcone grazie a voi grazie a voi e io invece vi do appuntamento al prossimo Balconi TV Messina ciao a tutti ciao 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 ciao